Ciao, ciao a tutti! Siamo qui, sono eccitatissima, e lo siete anche voi, vero? Sì! Con i tre partecipanti ai tre giorni di luce. Oggi iniziamo e non so che cosa combineremo in questi giorni. Quindi seguiteci perché magari vi manderemo qualche chicca. Poi qualcuno mi ha chiesto se facevamo un video, facevamo un qualcosa per questa sera. Lo faremo, lo faremo... non so se farò... farò qualcosa durante la giornata. Non vi preoccupate che arriva, mi sono messa tutte le sveglie per ricordarmi, nonostante tutte le tappe veramente piene che abbiamo. Quindi adesso vi faccio salutare i fortunatissimi dei tre giorni di luce. Eccoli qua! Vediamo! Ciao! Siete eccitati? Sì! Bene! No, vieni, tranquillissimi! Bene, allora vi teniamo aggiornati sui prossimi passaggi. Un saluto! Ciao! Ciao a tutti! Ciao!